All'inizio del mio percorso avevo molte domande, molti progetti che poi si sono chiariti man mano fino ad arrivare alla conclusione che ciò a cui volevo dedicarmi sarebbe stato la salute dell'ambiente e del pianeta. Appena sono entrata qui ho sentito da subito la cooperazione e l'innovazione che si respirava in queste mura. Ho capito subito che l'Università Campus Biomedico sarebbe diventato il mio posto. Appena ho saputo che c'era la possibilità di una borsa di studio ho provato a percorrerla e l'ho vinta. Questo è stato per me un grande acceleratore non solo dal lato pratico ma soprattutto dal lato emotivo perché ho capito quanto l'Università volesse investire su noi studenti e quanto l'Università volesse investire su di me. La mia borsa di studio è finanziata da un'azienda e questa per me rappresenta un'opportunità non solo perché un'azienda esterna sta credendo in me ma anche perché ha cambiato il mio punto di vista. La mia borsa di studio per me è una promessa, non solo una promessa che io faccio verso l'Università ma anche che l'Università fa verso di me e questo significa camminare insieme verso un obiettivo comune ovvero quello di permettermi di lasciare un'impronta sul futuro del pianeta. Grazie per la visione!